La tiella di riso patate e cozze, è preparata con uno strato di patate tagliate a fette sottili, uno strato di riso, e uno strato di cozze fresche, condite con aglio, prezzemolo e vino bianco. Il piatto viene poi coperto con un foglio di alluminio e cotto in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Il risultato è un piatto caldo e saporito, con una croccantezza delle patate e una morbidezza del riso e delle cozze.